A Massimo Dallavidova di AB domandiamo se la MIFID 2 risulterà proprio quel grande cambiamento che promette di essere o meno. Allora, per un asset manager estero americano come è AB, MIFID 2 non presenterà dei cambiamenti così stravolgenti. Sicuramente ha degli impatti, sappiamo, non solo dal lato di distribuzione ma anche di creazione, di innovazione, di prodotto. In questo senso i nostri processi interni sono già allineati con quelli che poi sono stati richiamati anche dalla direttiva europea. Dove vediamo un impatto è sicuramente nella parte di distribuzione sul mercato italiano, anche se dobbiamo ricordare che la MIFID non è stata fatta per il mercato italiano, nel senso, ma anche altri mercati che sono sempre stati meno regolamentati del nostro. Da noi i consulenti finanziari da tempo sono iscritti all'albo, devono avere determinati requisiti, hanno alle spalle delle società che forniscono la formazione e gli strumenti adatti. Quindi non credo che nel mercato italiano alla fine MIFID 2 creerà uno sconvolgimento così importante come abbiamo visto in altri paesi sostanzialmente. Ci saranno dei cambiamenti, i costi andranno esplicitati, maggiore trasparenza, in questo senso noi la vediamo con favore perché più c'è trasparenza sul mercato, più la concorrenza si svolge su elementi oggettivi e quindi è la qualità poi che emerge, quindi noi preferiamo giocare questo tipo di partita. Comunque di MIFID 2 se ne parlerà a partire dal 3 gennaio 2018, intanto andiamo sulla attualità, che consigli si possono dare ai consulenti sulla pianificazione in questo momento? Abbiamo una fase di mercato e di dati macroeconomici e politici sicuramente molto complessa e difficile da interpretare. Le previsioni degli ultimi eventi importanti come Brexit e le elezioni americane hanno dimostrato che non è così facile azzeccare le previsioni. Abbiamo adesso tutta una serie di eventi anche politici in Europa importanti, questo per dire che quello che noi consigliamo e per quanto riguarda per esempio l'obbligazionario europeo, quindi la porzione di portafoglio per i clienti individuali principale, che appunto è quella sull'obbligazionario Europa, sicuramente indirizziamo l'attenzione su strategie che possano essere flessibili, nel senso che è necessario prendere un po' di rischio per avere dei ritorni interessanti, altrimenti lo yield è veramente molto basso se non negativo, anche se riteniamo debba essere ragionato e quindi il rischio va sempre ponderato per le opportunità di guadagno, quindi non spingiamo sui CCC per capirsi, ma su portafogli e su strategie che possano essere più flessibili nell'obbligazionario. Per quanto riguarda invece i mercati azionari abbiamo visto che il mercato americano resta un po' la guida, è il punto di riferimento, è partito piuttosto tonico anche quest'anno, quello che vediamo è che non è più un discorso di puro beta come c'è stato negli ultimi anni, dove quindi sostanzialmente posizionarsi sul mercato in qualunque modo consentiva di prendere il rialzo di mercato. Adesso il mercato sarà secondo noi più selettivo, quindi consigliamo di utilizzare nell'azionario americano ma anche in quello europeo delle strategie che siano più concentrate, gestione di portafoglio attive dove la ricerca può individuare delle opportunità vincenti nel medio termine. Grazie a voi.